Di contro tutti! Di controllo! in funzione pronto all'uso UAB, fine autonomia, mi rientro UAB, attende istruzioni Comando, non farti riprendere ricevuto, UAB, attivo pronto all'uso UAB, attivo UAB, attivo UAB, attivo UAB, attivo nessun effetto sul bersaglio UAB, attivo Wtf that in snap in there oa b pronto all'uso ricevuto UAV in sorvolo sull'area, ricognizione disponibile andiamo terreno, non mollate UAV nemico in volo, missile cruise in avvicinamento attenzione, UAV in sorvolo sull'area operativa i nemici mandano un esplosivo aereo, UAV nemico attivo why did it disappear off me fucking screen more via 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 Per me in attesa Confermato. UAV operativo in zona. Hunter, missione compiuta. Ottimo lavoro.